Cucciolo Marisiga, l'opposizione fa quadrato. Una riunione in videoconferenza tra la minoranza del comune di Belluno e le famiglie residenti nell'area ha fatto emergere la contrarietà al progetto proposto dal sindaco Massaro di una bretella che attraversi l'abitato di Mier e raggiunga via Marisiga. Il tutto nell'ottica di snellire il flusso di traffico che insiste quotidianamente sulla rotonda della Cerva. Centrodestra e Comitato non ci stanno e propongono la progettazione di una circonvallazione esterna alla città, una strada che dalla rotonda di Marisiga porterebbe a via Agordo senza interessare i caseggiati della zona. Il tema è di grande importanza e tocca tanti aspetti, quello delle infrastrutture, quello dell'ambiente, la salute del cittadino. Abbiamo ascoltato le recriminazioni dei residenti della zona che temono per la loro incolumità, per la loro salute. Durante la commissione consigliare competente è la seconda in cui è intervenuto il signor sindaco. Esplicitamente gli abbiamo domandato i costi dell'opera, circa 1.800.000 euro. C'è stato detto che a livello di valutazione dell'impatto del traffico ci sono dei numeri e degli studi risalenti al 2010, evidentemente troppo tempo fa, ma certo oggi la situazione è evidentemente cambiata anche a seguito della pandemia. Quindi prima di decidere su una tipologia di strumento così impattante per una determinata e specifica importante area della città, credo che preliminarmente si debbano interessare i tecnici, penso agli urbanisti, agli architetti, agli ingegneri, a chi è in grado di valutare i flussi del traffico in una situazione che appunto è profondamente mutata rispetto a soltanto un anno fa. Noi ovviamente abbiamo creato un documento che presenteremo tramite una petizione popolare al Consiglio Comunale per discutere e prendere che il Comune prenda atto del nostro punto di vista. Il riservo eravamo 97 famiglie collegate e quindi sono sicuro che molte persone anziane non sono potute, non sono riuscite a collegarsi, però sono sicuramente interessati a firmare la petizione.